Abbiamo spaventato buon futebol, non avevamo bisogno di perdere, avevamo bisogno di vincere, non era una penalti. Mourinho, che cosa pensi della gara contro l'Arsenal? Beh, era buono, ma non avevamo bisogno di andare. Ora parliamo di Mourinho, che cosa pensi della partita contro l'Arsenal? Prendi il Tube dopo la gara? Prendi il Tube dopo questa stonfitta? Tube? Non so niente Tube, Red Tube, YouTube, Porn Tube...